Portiamo Hazor in griglia di partenza, vediamo in questa buona la prima di Dave, faremo un giro cercando di essere più puliti possibile, magari non tanto veloci. Oh, 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 oh. Niente, non è stata buona la prima, speriamo in buona la seconda, anche perché sennò poi metto via la GoPro perché non è tanto giornata, si schiatta di caldo. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. 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 ragazzi qualcosa pubblicherò sicuramente però oggi con la gopro basta sono in ferie il mio primo giorno di ferie non voglio rominarmi le ferie così quindi ciao mamma ciao papà scusate oggi ho fatto una performance di merda però vi voglio bene sempre ciao tito ci vediamo in pista